Allora, mi ero dimenticato, è un po' che non lo sento. Fatemi sentire il mio cugino, cugino di campagna. Mettiamo bluetooth, ok. Cuginaccio, come la va? Cuginaccio, è un po' di cose, per farti qualche domanda, visto che forza milano e forza diavolo. E' il parente, sei andato affarato. Visto che condividiamo la stessa fede, fortunatamente, 40 milioni di oggi, fresca fresca fresca, che più fresca non si può. Si, ci credo. No, si, è bau, bau, non ci credo. Si è andato, 40 noccelline, 40 milioni. Eh, maremma cane si fa una... guardate che porca di quella sozza. Per farci poi lo stadio. A me bastano mia di ettari, eh. Guardate che io non me lo vengo a lavorare, eh. Sì, sì. Diglielo. 40 milioni. Eh, non mi importa. Credici perché l'ho acquistato, primo passo fatto. No, 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 no. La fede è quella, ma io non è che pensino che tutto quel terreno io sono da pensare mio, eh. Non è che t'ho chiamato per andarci al lavoro, eh. Io ti ho detto... Si paga, si paga. So che c'ha da fare tante cose, ti preoccupare. E poi ce le vogliono far coltivare. No, ma rimancherebbe. Eh, sì, eh. Eh, no, speriamo, speriamo. No, che venghi neanche a cercare la mano d'opera, eh. Perché a me qua dietro chi me ne fa? Eh, lo so, capisco, lo so, a campagna com'è, eh. Via. Oltretutto, sì, c'è la crisi e tutto. No, eh, se lo fanno... Cosa? Se lo fanno, guarda, so contento, eh. Sì, loro erano un progetto avanti. Marema sbucudonata. Loro avevano un progetto avanti. Marema ladra. Noi indietro, però, guarda, sei per l'ora. Il terreno si è entrato. A me non ne stiamo più con quei pezzenti. Però poi, pensandoci bene, anche tu potresti dare il tuo contributo. Ma... Ma loro non erano avanti col progetto? No, no, no. No, no, non ti parlo. Non ti arrabbiare, eh. Se uno può, non può. Una cosa è bella. Loro erano avanti nel progetto, ma noi abbiamo preso il terreno. O che farà prima ora? Lo so. E' rimasto solo uno, l'altro è scappato. Comunque, io ve lo dico, forma tutti e io ho da guardare la vigna. E se continua così, tra poco butta, poi pioverà e mi farà dannà. Quest'anno, ve lo dico io. Fa una gelata. Ora, a marzo, vedrete, dalle bestemme che mi tocca di. Sì, sì. Poi, ho le bestie, le vacche, le pecore. Certo, no, io do... Così, eh, io non è che ti voglio... Ti non vengono perché i 40 milioni di terreno che poi hanno bisogno di mano d'opera, eh. Sono avvicinato. No, sia chiaro. Senti po', ascolta. Sia chiaro. E io devo fare anche una domanda, no? No, è che c'ho da fare, cavolo. C'ho le mungitura, c'ho la potalla olivi, c'ho da zappare, andare a cattassarsi. E troppe fregole c'ho, troppe fregne. Che... Dimmi. Sono contenti dell'operatore di Pioli. Pioli? Eh, ma che pazzi, coglioni, però. Il lavoro svolto. Eh, che ca... Scusa se lo dico qui nel tuo video. Scusami. E sembra che ci sia... Ma che coglioni. E basta. Eh, vabbè, è normale. Ma che devono dire no? Che non viene riconfermato? Che hanno già un altro? Ma non so mica babbanelli, eh. No, non so mica scemotti così presi e via. Dai, ma che ca... Eh, dai, tengono cose per non tenere la parte per mantenere anche lo spogliatoio, quel poco unito che è. Su, dai, e che facciamo discorsi, manca chiacchierano, mancano... Veniscono a lavorare la terra, a zappare, con me, sotto il sole, sotto il freddo, sotto la grado. Tuca, ascolta. Sinceramente, guarda, devo andare. Sto andando a rimettere le pecore. Infatti, non lo posso dire, no? E poi sistema un po' di cose e poi vorrei andare anche al tavolino a mangiare. Perché ho fame a una certa ora. Ma sono d'accordo. Comunque, sto contento. Salutami tutti. Sapevo che da una parte di un certo punto di vista. Non ci vengo adesso. Mi dispiace. E... Onda di pensiero. A meno che... Un piccolo sforzo economico. Vabbè, dai. Potremmo chiudere un occhio. Sì. Ciao, pazzi. Ciao, eh. Fai bravo, dai. Vabbè, ti lascio, ti lascio. Sempre forza Milan. Dai, inti lupo altro tempo che c'è da fare, giustamente. Dai. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, visto? Che due pezze, non è me. DNA è quello. La famiglia è quella. La fede è quella. No, ma vedrete che... Ora inizieranno lavori. Il terreno è preso. O poi, al limite, ci si va a lavorare un po' la terra, eh. Davvero. Se fanno lo stadio ci si lavora, ci si coltiva qualcosa. Vabbè. Ciao, raga. Dai, eh. Forza diavolo.